Siamo stasera a casa di due grandi esperti di economia che ci aiuteranno a risolvere la crisi Due Oshii Ecco, signor Oshia Cosa ci può dire della situazione della crisi in Italia? Ah, bene E della Germania nei confronti dell'Italia? Eh, sì, sono d'accordo, sentiamo un po' Lei, secondo lei, l'Europa ha un futuro? Ha un futuro secondo lei l'Europa? No comment, mi sa che è venduta lei, eh Torniamo su... Allora Quali nuove riforme vuole attuare per salvare l'Italia dalla crisi? Ci dica un po' le riforme Ah, va bene, interessante Poi? Ah, sì, sicuramente, riforma del lavoro, eh Immagino Hai un pochino di pallino Eh, sì, dopo, alla fine dell'intervista gli si dà un po' di soldi Guarda se viene l'acqua della cannella Se non gli fa un po' a giuro Sì, sì, viene, viene Tornando al nostro discorso Ah, vedo se si stava un po' per la conferenza stampa di dopo, bene Eh, niente, le domande però sono finite Semmai io le faccio un po' alla conferenza stampa D'accordo? Mm, bene Zitto Corrotto Venduto Venduto Beh, per TG TG Impavito Stasera è tutto Arrivederci